Non abbiamo ancora messo la parola fine a questa tragedia dei risparmiatori truffati che a tratti è diventata anche una farsa. C'è stata però una svolta determinante, è passato in questo decreto della crescita il progetto del doppio binario. Adesso sono ancora da rivedere dei dettagli perché c'è il giallo sul tetto dei 200.000 euro che non sono il risarcimento massimo ma è il massimo imponibile dei beni immobili per il quale si può accedere a questi ristori. Ancora i dettagli non sono a loro posto tutti quanti in fila. La svolta c'è stata e l'unica considerazione che a questo punto si può fare oltre che alla soddisfazione dei risparmiatori truffati che finalmente vedono questa luce in fondo al tunnel dopo tanto buio è che finché si parla, finché si chiede, finché si cerca di convincere qualcuno a darci una mano, più delle volte si ottengono dei rifiuti, si vedono porte sbattute in faccia, insomma non si cava un ragno dal buco. Quando si alza la voce, quando si usano parole grosse, allora vedi che qualcosa nell'atteggiamento di anche i più ostici, i più cinici può cambiare. Può sembrare velleitario, ma il fatto di veramente fare quello che ha fatto Patrizio Miatello e altre associazioni che a un certo punto hanno detto insomma sapete cosa vi diciamo voi che siete venuti a prometterci questi ristori in tempi brevi, che noi la prossima volta non vi votiamo più. E puff, come d'incanto, come per magia le cose sono cambiate. Morale della favola. Questi politici che siano di destra, di sinistra, di centro, hanno un unico obiettivo e un unico interesse, il consenso. Per cui se per caso vedono che questo consenso è minacciato e potrebbe in qualche modo crollare o svanire, allora corrono i ripari. Appena c'è stata questa minaccia, subito, riunione, trial, il doppio binario, ancora bastoni tra le ruote, ma insomma alla fine questa svolta c'è stata. Perché di questo hanno paura. E questo dovrebbe servire da lezione anche per l'autonomia. È giustissimo, come fa il Presidente Zaia, trattare in maniera, nell'alveo della Costituzione, essere sempre disponibili, andare 45 volte a Roma con la povera Stefani che davvero non so come faccia a resistere di fronte a questo ostinato silenzio di chi l'autonomia non la vuole, a questa presa per i fondelli a volte può sembrare. E allora è bene fare di tutto, ma se a un certo punto ci si sente presi per il naso, allora bisogna reagire, bisogna minacciare, bisogna dire alle forze del governo in questo caso che siano Lega, 5 Stelle, PD, Forza Italia, non conta nulla. Bisogna dire che la prossima volta non vi votiamo. Tutti i voti che vi abbiamo dato saranno spazzati via. E quindi a quel punto vedrete che come d'incanto le soluzioni saranno raggiunte.